Siamo contenti della partnership con Atlas Copco, che si è dimostrata una partnership efficiente ed efficace, soprattutto perché sono 50 anni che lavoriamo con Atlas Copco e tutto ciò che oggi stiamo realizzando lo dobbiamo anche a loro. Quando si pensa all'Italia, la prima cosa che viene in mente è la pasta. E quando gli italiani pensano alla pasta, pensano subito a la Molisana. La Molisana è un'azienda che è stata fondata nel 1910 a Campobasso. Ogni giorno realizziamo 40.000 pacchetti di pasta da mezzo chilo. È uno dei più antichi pastifici d'Italia, quindi oggi ha 105 anni. Cucinare un ottimo piatto di pasta non è così semplice come potrebbe sembrare. È necessario avere gli ingredienti più freschi e pasta eccellente, naturalmente. E, infine, per rendere la pasta perfetta è necessario avere vuoto di qualità. Affidatevi ad Atlas Copco per avere vuoto di qualità. Quando mettiamo dell'acqua sotto vuoto, questa bolla è addirittura a temperatura ambiente. Ma cucinare a questa temperatura è praticamente impossibile, perché la pasta sarebbe veramente, ma veramente troppo al dente. Il vuoto è di vitale importanza per la qualità per cui la Molisana è famosa. La nostra necessità per il vuoto è una necessità fondamentale nella realizzazione di pasta essiccata. Senza il vuoto non si realizza la pasta essiccata, in quanto noi dobbiamo estrarre l'aria dall'impasto. Un'applicazione scadente del vuoto potrebbe inficiare, quindi rendere non conforme, il prodotto pasta. Il vuoto allunga la durata della pasta e migliora il suo colore e il suo profumo. Non c'è da stupirsi, quindi, se la Molisana ha scelto un fornitore di qualità per il suo vuoto. È una pompa GHS, Atlas Copco GHS VSD Plus, ed è dotata di inverter e di PLC Electricon MK5 Graph. Come funziona? Settando il grado di vuoto richiesto, in base alla richiesta del processo, la pompa varia il numero di giri. Questo consente di ottenere un risparmio energetico talvolta superiore al 50% rispetto alle tecnologie convenzionali e mi riferisco in particolare alle pompe a palette lubrificate e alle pompe ad anello liquido. La qualità è nei dettagli e questo vale sia per la pasta alla Molisana che per le pompe per vuoto Atlas Copco. Il design del nostro elemento rotativo a vite si basa sul ben noto principio del plug and play dei compressori Atlas Copco. Il design è stato ottimizzato dai progettisti delle pompe per vuoto per offrire massime prestazioni e massima efficienza energetica. L'elemento rotativo a vite, altamente efficiente, a tenuta d'olio, ha una struttura davvero molto robusta, che permette quindi una durata più lunga dell'elemento rispetto a quello tradizionale rotativo ad iniezione o dalle pompe per vuoto a secco. La pasta è un alimento semplice, fatto con ingredienti semplici, ma per garantire che il prodotto finale sia eccellente, la Molisana si accerta che le materie prime siano di qualità eccellente. Molti degli ingredienti che noi utilizziamo, che sono fondamentalmente due, l'acqua e la semola, vengono dalla nostra regione. Lavorare con una supply chain integrata significa dare al consumatore la garanzia di tracciabilità del prodotto dal campo al piatto. Per noi è un momento fondamentale di garanzia per il consumatore. Per quanto riguarda la Molisana, questo significa una sola parola, efficienza. La necessità di controllare ogni aspetto della produzione è qualcosa che riguarda certamente Atlas Copco. Anche Atlas Copco è della stessa idea. Per così dire, anche a noi piace coltivare i nostri ingredienti. L'inverter Nios ne è un grande esempio. È stato progettato in casa, tenendo ben in mente le nostre macchine. È stato realizzato in un robusto alloggiamento in alluminio per affrontare le condizioni più gravose. Inoltre ha davvero pochi componenti. È compatto, semplice e facile da utilizzare. Un altro importante esempio dei principi di progettazione di Atlas Copco. Dai campi del Sud Italia al piatto in casa nostra, la Molisana protegge la qualità e il gusto della sua pasta. Atlas Copco è orgogliosa di far parte di questa ricetta di successo.